No, no santa Luci, Benedetto, cameriere? Chie! Tutto bene? No, non tanto! Io ho ordinato gli spaghetti e i frutti di me, ma sono aperti un gabaretto e dentro il frutto non c'era. Sì, un gabinetto, un brutto non gelo, chiedo su, non è che le devo dire queste cose, perché se tu prendi la torta della nonna, che sta la nonna al centro? Che dica mia, lì a sera, si parla così. Hai ragione, hai ragione, infatti una settimana fa ho mangiato di spaghetti la puttanesca, mi sono chiesto a sorti.